Io lascerei la parola a Ilenia Curzi. Grazie mille per l'invito e questa occasione di confronto, volevo ringraziare per gli interessanti interventi anche chi mi ha preceduto, avrei un sacco di domande, però provo anche anch'io a condividere il mio punto di vista, il punto di vista della riflessione organizzativa, in particolare toccando questo tema, il rapporto tra autonomia e benessere nell'ambito del lavoro agile e in stretta connessione a questo vorrei diciamo anche provare ad affrontare un secondo aspetto che penso che sia collegato quantomeno sulla base del precipitato delle riflessioni sul primo punto. Il secondo aspetto è il rapporto tra competenze effettivamente possedute dal lavoratore, quindi in un certo senso formazione nell'ambito del lavoro agile e benessere e una prima ipotesi sulla configurazione e la progettazione dei sistemi di performance management nell'ambito del lavoro agile, specialmente per la gestione della prestazione degli asperanti lavoratori agili. Quindi parto dal primo punto su cui prova a essere diciamo abbastanza rapida, la questione del rapporto tra autonomia e benessere nel lavoro agile, come prima accennava Matteo il termine autonomia, il concetto di autonomia può essere un concetto diciamo scivoloso e in effetti la riflessione organizzativa diciamo mette in evidenza che esistono almeno due diversi modi e di interpretare questo rapporto tra autonomia e benessere al lavoro. Da un lato una visione potremmo dire più ottimista, quindi lo smart working, il lavoro agile è una soluzione win-win in grado di ottimizzare la soddisfazione delle esigenze individuali, delle esigenze organizzative se è nella misura in cui promuove l'orientamento al risultato e valorizza l'autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa. Dove l'autonomia è però intesa in modo generale come scelta da parte del lavoratore di dove, come e quando lavorare, quindi una visione ottimista a cui si contrapone una riflessione più critica, la quale mette in evidenza che l'autonomia nel lavoro agile come sopra è genericamente definita, quindi generica scelta da parte del lavoratore o possibilità di scelta del lavoratore di scegliere dove, come e quando lavorare, l'autonomia può produrre degli effetti paradossali, condurre a una maggiore intensificazione del lavoro. Questo filone di ricerca è interessante perché appunto sottolinea l'esistenza di un paradosso, ma anche perché suggerisce che gli effetti paradossali dell'autonomia nel lavoro agile e nelle altre forme flessibili di organizzazione del lavoro sia il risultato degli schemi concettuali, dei concetti che usiamo per tematizzare l'autonomia. Quindi un modo per superare il paradosso dell'autonomia nel lavoro agile e provare a riflettere su come il concetto di autonomia è appunto tematizzato. A partire diciamo da questa base con i colleghi Tommaso Fabri e Barbara Pistoresi del Dipartimento di Economia Marco Biagi, abbiamo provato ad esplorare teoricamente ed empiricamente se il paradosso dell'autonomia nel lavoro agile potesse essere risolto o superato, sostituendo al concetto generico che prima vi richiamavo di autonomia, sostituendo a questo concetto generico che prima vi richiamavo di autonomia, la distinzione analitica tra autonomia e discrezionalità che è stata introdotta nella riflessione organizzativa del professor Bruno Maggi. Brevemente voglio provare a richiamare in che cosa consiste questa distinzione concettuale. Da un lato la discrezionalità organizzativa, che cos'è? È la possibilità del lavoratore di scegliere però nell'ambito di un set di alternative che sono già predeterminato dall'esterno o da qualcun altro. Quindi la sua scelta si muove entro un quadro di vincoli predeterminati su cui il lavoratore non può incidere e a cui sostanzialmente il lavoratore si deve adattare. Quindi nel lavoro agile tipicamente la discrezionalità è la discrezionalità di scegliere il ritmo del proprio lavoro, i metodi di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della giornata o della settimana lavorativa nell'ambito e nel rispetto di un set di vincolo determinati da qualcun altro, che siano la legge, che siano il superiore gerarchico, che siano le generali esigenze organizzative. L'autonomia invece fa riferimento alla possibilità di incidere sullo spazio delle alternative tra cui scegliere, quindi per esempio quando questo spazio è predeterminato rimuovere i vincoli o superare i vincoli che configurano l'ampiezza, la numerosità delle alternative tra cui si può scegliere, più in generale l'autonomia è la possibilità di definire le regole per il governo dei propri processi di lavoro. In termini concreti è la possibilità di definire i propri obiettivi di lavoro, la possibilità di incidere sull'organizzazione dei propri processi di lavoro, dei processi di lavoro nel proprio reparto, dei processi di lavoro in altri reparti che sono interdipendenti con il reparto a cui appartiene il lavoratore agile, per esempio. Quindi è come dire una scelta che interviene sulla regolazione organizzativa dei processi in cui il soggetto è coinvolto. A partire da questa distinzione, come vi dicevo, abbiamo provato a analizzare anche empiricamente quale potesse essere l'interazione tra discrezionalità e autonomia da una parte e intensificazione del lavoro dall'altra utilizzando dei dati secondari rappresentativi a livello europeo sulle condizioni dei lavoratori in Europa. Ci siamo in particolare concentrati sui lavoratori da remoto e abbiamo visto che, diciamo, l'interazione negativa avviene tra discrezionalità e intensificazione lavorativa. Detto meglio, ciò che interagisce negativamente con l'intensificazione lavorativa, ciò che conduce all'intensificazione lavorativa, non è l'autonomia, è bensì la discrezionalità, quell'obbligo di scegliere dati certi vincoli su cui il lavoratore non può incidere, a cui si deve adattare. Questo fenomeno avviene in particolare per i lavoratori più mobili, quelli che vengono chiamati anche nomadi digitali, quelli che quando lavorano al di fuori dei locali aziendali lo fanno da un luogo diverso rispetto alla propria abitazione. Questi lavoratori sono, rispetto ai lavoratori tradizionali o ai tele lavoratori, più soggetti a intensificazione lavorativa. L'intensificazione si manifesta dentro il normale orario di lavoro, quindi non è lavoro supplementare, lavoro oltre all'orario di lavoro, ma tipicamente è l'obbligo di lavorare a scadenze ravvicinate, l'obbligo di rispondere e far fronte a frequenti interruzioni durante il lavoro. Questi soggetti hanno anche maggiore discrezionalità, discrezionalità nel decidere il proprio orario di lavoro, nel decidere il ritmo di lavoro, però per questi soggetti la discrezionalità su queste due dimensioni arriva ad ampliare l'impatto negativo sul benessere dell'intensificazione lavorativa fino a raddoppiarla. Quindi è la discrezionalità che genera intensificazione, non è autonomia. E questo però non è paradossale per tutto quello che ci siamo detti, diciamo, fino adesso, e cioè che appunto la discrezionalità rimanda alla possibilità di scegliere, però nell'ambito di un set di vincoli su cui il lavoratore non può intervenire, a cui si deve adattare, a fronte di, quindi, la possibilità di scegliere per soddisfare delle richieste che in primo luogo rispondono a delle esigenze organizzative. Qual è l'implicazione che si può trarre, diciamo, da questi risultati in termini di tutela del benessere? L'implicazione, una prima implicazione ovviamente che ne abbiamo tratto è sostanzialmente l'importanza di ritornare ad un'analisi complessiva dei processi organizzativi a 360 gradi. Quindi non basta concentrarsi sul singolo aspetto di lavoro, per esempio la possibilità di esercizio della discrezionalità, è necessario prendere in considerazione tutte le condizioni organizzative esistenti che possono coesistere insieme alla discrezionalità e interagire insieme alla discrezionalità, quindi condurre un'analisi a 360 gradi dei processi organizzativi, considerando tutte le condizioni organizzative presenti, come si combinano e come interagiscono tra di loro. Un'analisi organizzativa che deve essere, diciamo, limitata non solo al job, non solo alla prestazione resa in modalità agile, ma che si deve estendere anche a livello di scelte organizzative superiori, quindi le modalità di organizzazione del lavoro a livello di impresa complessiva, i sistemi di performance management, ed è necessario anche considerare i rapporti tra l'impresa e gli stakeholder esterni nell'ambiente di riferimento che hanno diversi livelli di potere, quindi considerare anche i livelli di potere relativi. Quindi ritornare a quel principio di analisi generale e programmata del complessivo processo organizzativo, che però mi sembra essere, diciamo, un principio che quando parliamo di tutela della salute, della sicurezza del lavoratore agile, è un principio che non è, non mi sembra sufficientemente ricordato, abbastanza fortemente richiamato nel dibattito pubblico. Anche nel protocollo mi sembra che molta enfasi, diciamo, viene posta sui luoghi di lavoro, sul diritto alla disconnessione, non ho rintracciato, diciamo, un'analisi, un'altrettanta elevata enfasi su questo principio di analisi complessiva dei processi organizzativi. Però questo potrebbe essere, cioè, sicuramente determinato dal fatto che appunto non sono una studiosa, non sono un giurista e quindi da un difetto mio di competente. Il secondo punto riguarda il rapporto tra competenza effettivamente possedute dai lavoratori e benessere nell'ambito del lavoro agile. Ed è sempre collegato, diciamo, a quell'aspetto a cui prima accennavo, relativo al fatto che in molte situazioni quella che genericamente chiamiamo autonomia nel lavoro agile, è in realtà una richiesta di esercizio di discrezionalità. Ecco, da questo punto di vista, di nuovo, la riflessione organizzativa più autorevole, più matura, diciamo, mette in evidenza che esiste un'altra circostanza in cui la richiesta di esercizio della discrezionalità può produrre degli effetti non positivi sul benessere delle persone a lavoro. Ed è la situazione in cui la richiesta di esercizio di discrezionalità è rivolta a un soggetto che non ha sufficiente competente per esercitare discrezionalità, non ha acquisito abbastanza esperiente, non ha acquisito abbastanza competente. In questo caso la riflessione organizzativa dice la richiesta di esercizio di discrezionalità non è gradita e può portare a degli effetti negativi, a forme di sofferenza e di disagio sul lavoro. Da questo punto di vista c'è, diciamo, un ulteriore filone di ricerca nell'ambito che si è occupata prevalentemente delle modalità di assegnazione degli obiettivi che è utile richiamare perché, diciamo, questo filone di ricerca dice che la richiesta di esercizio suggerisce che la richiesta di esercizio di discrezionalità rivolta ad un soggetto, diciamo così, non competente produce effetti negativi sul benessere ma anche sulla produttività specialmente nella situazione in cui al soggetto, diciamo, novizio si richiede contemporaneamente di raggiungere un predeterminato livello di risultato. Quindi c'è una richiesta di esercizio di discrezionalità, la mancanta di competente per esercitare questa discrezionalità e contemporaneamente al soggetto viene richiesto di raggiungere determinato livello di risultato. La teoria del goal setting dice che queste situazioni creano dei fenomeni di tunnel vision, ansia, stress, effetti negativi sul benessere e sulla produttività. Il rimedio sarebbe piuttosto che fissare degli obiettivi di performance, piuttosto che chiedere il raggiungimento di un determinato livello di risultato, focalizzarsi sugli obiettivi di apprendimento. Che cosa sono gli obiettivi di apprendimento? Generalmente è la richiesta all'individuo di individuare, quindi partecipazione nell'individuazione di una serie di strategie che possono aiutare a sviluppare le competenze necessarie a far fronte. Quindi piuttosto che, qui i teorici fanno l'esempio del golfista alle prime armi, un obiettivo di performance, la richiesta di raggiungere un determinato livello di risultato consiste per esempio nel richiedere al novizio di raggiungere un certo punteggio nelle partite di golf sin dall'inizio, anche quando ancora è in novizio. Questo è un obiettivo di performance. Il soggetto non ha le competenze perché ancora non ha imparato a giocare a golf, è improbabile che raggiunga quel risultato, ma nel tentativo di raggiungere quel risultato mette in atto tutta una serie di attività improvvisate che non sono produttive sotto il profilo della produttività, ma possono avere effetti negativi anche sul piano del benessere. Di contro risultati preferibili si ottengono quando al novizio si chiede di individuare una serie di strategie, per esempio per imparare a come scegliere la matta in funzione della conformità del territorio, sviluppare, individuare e implementare tutta una serie di strategie per imparare a come impugnare la matta. Quindi l'obiettivo è un obiettivo di apprendimento perché focalizza l'attenzione sull'individuazione dei corsi di azione che possono essere utili per sviluppare le competenze necessarie a padroneggiare il compito. E da qui sto per concludere alcune implicazioni che possono essere sviluppate sul piano dei sistemi di performance management sostanzialmente nell'ambito del lavoro agile per supportare il lavoratore nello sviluppo delle competenze necessarie a lavorare in modalità agile e, se del caso, a far fronte a quella richiesta di esercizio della discrezionalità. Sistemi di performance management possono svolgere un ruolo chiave da questo punto di vista a patto che siano progettati in maniera tale da ridurre l'enfasi sull'orientamento al risultato. Quindi non tanto essere centrati sulla promozione dell'orientamento al risultato, quanto incorporare una specifica componente che focalizza l'attenzione del lavoratore e del suo superiore sugli obiettivi di apprendimento. Quindi una componente centrata su specifici obiettivi di apprendimento che è tenuta separata ed è addizionale rispetto alla componente del sistema di performance management che si occupa dell'orientamento al risultato. L'altra implicazione riguarda il modo con cui intendiamo l'orientamento al risultato. In un'ottica di sviluppo delle competenze, quindi di supporto al lavoratore, diciamo così, novizio, il concetto di orientamento al risultato dovrebbe essere riformulato nei termini di orientamento ad un risultato desiderato. Quindi un risultato che può non essere raggiunto, che può essere raggiunto solo parzialmente e che può eventualmente modificarsi anche alla luce dell'apprendimento di nuove competente. Ho concluso. Grazie Elenia, sei tra l'altro stata anche perfettamente nei tempi oltre ad averci proposto delle riflessioni molto puntuali ed efficaci. Grazie. 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 Grazie.